Siamo al quinto giorno dopo l'inizio della preparazione atletica, siamo in compagnia di Dante Anconetani, che è il nuovo general manager della pallacanestro Beccari. Lei porta in dote circa 45 anni di pallacanestro nei vari ruoli, tra campo, panchina e scrivanie. Quindi le chiedo per la sua esperienza cosa l'ha colpita queste prime settimane a Piazzenza in una nuova società? Beh, 45 anni, sono 47 esattamente, mi ha fatto venire un po' di tristezza perché non pensavo così tanto. La grande disponibilità dell'ambiente, la grande serenità che c'è tuttora e la grande voglia di emergere. Quindi diciamo che sono tutte caratteristiche che fanno bene al movimento. Lei ha avuto una carriera molto importante a livello giovanile, ottenendo anche grandi successi. Che consiglio, il primo consiglio che le viene in mente da dare ai nostri tesserati nel settore giovanile per emergere? Beh, io quello che dico sempre è che la pallacanestro è un gioco e quindi bisogna divertirsi con serietà. Quindi c'è il momento di serietà come c'è comunque il momento di divertimento. Quindi una grande passione. Io uscivo sempre col pallone perché per me il pallone faceva parte del mio corpo. Quindi dico comunque il divertimento è la molla di tutto. Adesso la stagione inizierà a fine settembre. Anche confrontandoci un attimo con le avversarie di prima fascia del nostro girone, che voto si sente di dare al mercato Becquery di quest'estate? In assoluto dieci perché diciamo che fino a venti giorni fa c'era un otto e mezzo, ma con l'acquisto di Soragna dieci lote sarebbe. Quindi ringraziamo Dante Anconetani per la disponibilità, diamo il benvenuto a Piacenza e auguriamo un bocca al lupo per la stagione. Grazie a te, grazie a tutti, vi aspettiamo. Grazie a tutti.